Ciao ragazzi, questo è il luogo delle mie passioni e delle mie sofferenze quotidiane da un punto di vista fisico, qui forse anche in virtù della mia insonnia io ci sto più che in camera da letto, però si sta bene, si sta fresco e si fatica, enjoy! Il fuoco e l'acqua sono due elementi così diversi eppure stanno così bene insieme, come il sorriso e la serietà, ricordatevi che le persone che non ridono non sono persone serie, buonanotte, enjoy! Sì, buonanotte! Sì, buonanotte! Sì, buonanotte! Sì! Sì! Sì, buonanotte! Sì! Sì, buonanotte!